Vabbè, giochiamo? Possiamo giocare? Non ho capito io, cioè, nel video giochiamo, siamo qui per questo, immagino voi siete venuti qui per vedere una live dove si gioca ai videogiochi piuttosto che vedere uno che suona l'ocarina, anche se comunque la suono abbastanza bene, direi che sono un fico. Vabbè, vabbè, vabbè. Sono fichissimo! Detto questo scompaio facendo una magia. Quella era una spada maglia. Posso fare finta? Vedi che sta facendo da solo? Hacker Man, è il più potente hacker di tutto il tempo. Io devo andare a fare la popò. Tu adesso ti metti qui, col tasto destro si accelera, col sinistro si frena e questo è un volante. Io devo ancora aprire la patente e tu mi hai messo qua? C'è la musica però. Vieni, così impari. Vado in bagno e torno, eh? Sì, ma... Segui il navigatore, arrivi. E leggi la chat. Ma sono... ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Io l'ho mancato. Si aprirà in tempo? Eh, l'ha visto, l'ha visto. Mi serviva Luke per vedere la tv, la volevo mettere sopra per quello. E' sparita? E' sparita? Dov'è? Dov'è finita la tv? Dov'è la tv? L'ho appena buttata per terra. E' finita sotto? E' finita sotto terra, vero? Sì. Finita sotto terra la tv. Gatto, guardami! Sono morto! Ok. In pratica è una Caesar Salad. La Caesar Salad non dovrebbe averci... A te c'è la mamma vacca, ma scu... Marco, te lo dico io, qua bisogna fare questo mestiere qui. Guarda, aspetta. E' un po' di forza, dove sono gli Avenger quando c'è bisogno. Aiuto. Luke, è una tragedia. Mi sono svegliato, come al solito c'è Piff, c'è Sif sul Puff, che mastica qualcosa. Ormai è diventato un grande classico, svegliarsi, andare in bagno, lui ti urla perché sei in bagno, poi esci. Tu lo trovi sul Puff, col tuo zampe, che sgranocchia qualcosa. Sono sempre cose incredibili. Oggi stavo sgranocchiando un giubbino carta rifrangente. Noi li teniamo in macchina. Perché è obbligatorio in autostrada se ti devi fermare, triangolo e giubbino. Io non ho idea, non lo so, non lo so dove l'ha presa, non lo so. Gatto! Dov'è? Non lo so, non lo so. E l'ho visto, l'ho visto, aspetta, è sotto di me, è sotto di me! E vai! Yes! Yes! Cazzo! Eh ma in terza non vale. Però, però... No, in terza non vale. Però... Grazie della pietra bianca, gentilissimo. Me la infilerò nel culo. A lei e a famiglia. Cazzo! Cazzo! Ho rotto il cazzo! 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 Cazzo non posso, cazzo! Roto cazzo! Moro! Moro la... Togli... Cazzo ti sto tosendo il culo! Cazzo! Eeeh... Non vedo nulla. Che puttana! Dai per cortesia, io non abbiamo tempo da buttare. Non mi sci... Dai cazzo, lo sapevo! Cazzo! Ma grazie anche a... Gli orifizi anali. Ah. Credo sia la prima volta che leggo bene un nome di una sub. Ed erano gli orifizi anali. E su! Luca! Ok. Avviso un po' in anticipo. Cosa sta succedendo? Sono caduti dei sassi. Ah. Ah! Sta sparando quel cosola. Eeeh! Ma sta tirando giù dei meteoretti. E allora è meglio non starci sotto. La butto lì. Qui, eccolo qua. Vedete? È durissimo. È durissimo. Però voi vedete qua c'è... Una morsa. Una morsa che potete attaccare dove cazzo vi pare. E qui, e qui. E vedete la cosa interessante? Che ci puoi mettere l'iPad. Oppure un tablet. Oppure Nintendo Switch. E questa cosa è molto comoda se voi avete una testiera del letto. Perché se voi avete una testiera del letto. Voi vi mettete ad esempio. Facciamo finta chiaramente. Poi dopo. Vi mettete la cosa dietro. La testiera del letto. E c'avete il vostro bel tablet che vi guarda. C'è qualcuno che abita in un qualche paese? Che fa qualcosa? Siete genovesi? Fate la focaccia. E speditemi le due focacce. Facce di merda. Non me le spedite. E io mi mangio le focaccelle. Sembri la principessa che ho cercato per tutta la vita. Ok, uno l'ho buttato giù. Gatto, sta entrando uno, gatto. Dov'è? È dietro di te. Marco! Ti è fitto giù. Ok, è morto. Sto arrivando a chi? Io aiuto. Che paura! Ne è rimasto uno, eh. Uno oltre a noi. Mi sa che di sopra, eh. Di te? Mi curo. Io provo a buttare giù la parete di quelli... No, abbiamo vinto perché mi ha ucciso. È andata? Dai! Che fico! Coglione! Mi ha lanciato un raggio in faccia ed è morto pure lui. Abbiamo fatto anche abbastanza kill a testa. Perfetto? Già!